Enna si presta benissimo come logistica, ha un suo significato, è un'area a scarsa sismicità, quindi sicuramente il riparo dei venti sismici è paricentrico, è facilmente raggiungibile e poi ha uno spazio veramente notevole, ha infrastrutture logistiche e ringraziamo anche l'autodromo di Enna che ci ha concesso questi spazi e ci ha dato anche la grandissima collaborazione. 1.300 volontari al giorno, 250 nostri funzionari e altri 200 tra vigile del fuoco, forestale, comunali e altri osservatori che abbiamo quattro cucine da campo che riescono a fare oltre mille pasti all'ora. L'esercitazione è già servita, ha avuto già la sua efficacia perché ha individuato dei buchi che avevamo nel funzionamento dei mezzi e delle attrezzature e quindi l'esercitazione per noi ha avuto una grandissima efficacia e quella di dimostrare che da domani potremmo allestire un campo per mille persone in 24 ore. Grazie a tutti.